ciao a tutti amici benvenuti al mio canale io sono moira e oggi siamo su The Sims 4 ringrazio Ilaria, Kiki e Julie, Vale Super e Erika per queste fan art grazie mille allora oggi finalmente inauguriamo il negozio di Alessia e COD mi sono concentrata tantissimo sulle loro due carriere infatti Alessia ha ricevuto una promozione è diventata fornitrice di catering ma comunque fra un po' la faremo licenziare perché è soltanto un lavoro secondario invece COD ha ricevuto ben due promozioni prima è diventato tecnico e ora è diventato capo del centro di comando l'unica cosa è che dobbiamo allenarci dobbiamo raggiungere il livello 3 di forma fisica effettivamente l'astronauta è una carriera che richiede l'abilità di atletica beh visto che ora abbiamo la nuova palestra nel quartiere quella che hanno aggiunto con un giorno alla spa direi di mandarlo lì ad allenarsi poi giusto per mostrarvi con la promozione di COD mi hanno regalato questo modellino di un razzo spaziale e poi mi hanno regalato anche questa cosa però non ho capito che cos'è sembra tipo un progetto sempre di un razzo spaziale io comunque l'ho messo qui sopra il camino poi più avanti faremo come abbiamo fatto con Sara e Stefano quindi magari uno studio sotterraneo dove metteremo tutte queste cose comunque con tutte le varie promozioni e le gratifiche avevo raggiunto più di 6000 simoleon quindi ho utilizzato tutti i soldi infatti siamo rimasti soltanto con 12 simoleon per costruire il negozio non è ancora completo ho fatto diciamo soltanto la prima parte quindi è piccolino però man mano che comincieremo a guadagnare lo espanderemo sempre di più fino a farlo diventare un bel negozio ma ora vi spiegherò tutto nel dettaglio comunque loro due stanno dormendo aspettate va a lavorare alle 14 lei va a lavorare alle 15 per il momento le lasciamo il lavoro perché non penso che inizieremo a guadagnare subito così tanto con il negozio quindi per il momento le lascio il lavoro di cuoca aspettiamo un attimo di guadagnare ancora qualcosa e poi la licenziamo e ci dedichiamo solo al negozio invece Cod andrà avanti con la sua carriera comunque alle 15 e alle 14 benissimo quindi direi che possiamo dedicare tutta la mattina al negozio quindi direi che possiamo già alzarci andate in bagno e lei di cosa ha bisogno anche lei deve andare in bagno sì un attimo solo che abbia finito lui usa ho già scelto anche ad entrambi una divisa da negozio come per le gemelle e aspettiamo un momento che Cod abbia finito di farsi la doccia e poi andiamo quindi viaggia con ma ha finito no aspetta che non ha finito ok adesso ha finito andiamo viaggia con Cod allora il negozio l'ho messo qui nel nostro quartiere non l'ho messo a Magnolia Promnad che è il quartiere dove c'è anche il negozio del gemelle perché non c'era più posto avrei dovuto eliminare uno dei negozi già esistenti ma siccome non volevo farlo ho piazzato il negozio in questo quartiere diciamo che questa zona sta un po' diventando il centro della città abbiamo la spa la palestra il parco ora abbiamo un negozio non so qua magari si potrebbe anche costruire un ristorante o qualcosa del genere comunque andiamo ed eccoci qua vi mostro il negozio visto dall'esterno è ancora all'inizio non l'ho completato però come inizio secondo me è molto 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 carino praticamente visto dall'esterno sembra tipo una serra quindi ho fatto due pareti davanti e dietro completamente di vetro in modo che entri più luce possibile qui abbiamo due piccole verande con un recinto fatto di siepe e poi per il soffitto non ho creato un tetto chiuso ma praticamente ho utilizzato una recinzione qui è tutto aperto proprio come se fosse insomma una serra poi per quanto riguarda l'esterno qui abbiamo queste due cose ma sinceramente non è che mi piacciono tanto ci sto ancora pensando praticamente volevo mettere ma sono andati a male non so se riuscite a vederli comunque qui sopra ho messo tutta la verdura la frutta le erbe aromatiche che abbiamo coltivato nel nostro orto le ho raccolte tutte e non tutte ma alcune le ho messe qui fuori volevo creare una zona tipo il fruttivendolo che fuori dal negozio hanno le cassette di frutta e verdura però si vedono male nel senso pensavo fossero più grandi cioè se io prendo questo espositore veste che diventano grandi così dovrebbero essere se io invece le metto giù si rimpiccioliscono non so se sia un bug perché se fossero rimaste così sarebbe stato bellissimo proprio come un fruttivendolo con la frutta esposta fuori però così sono orribili eh vabbè guardate le banane che piccole però non so perché faccia così quindi magari adesso proviamo a lasciare questi espositori fuori vediamo se la gente compra altrimenti li elimino perché sono anche un po' bruttini da vedere con la roba nera così boh vabbè comunque questo è l'esterno poi all'interno aspettate eccoci qui abbiamo innanzitutto il bancone con la cassa tutto quello che vedete è in vendita quindi qui ho messo tutti i fiori che sono in vendita ho messo anche l'attrezzatura da giardino perché non voglio vendere solo semi frutta e verdura ma voglio vendere anche oggetti da giardino poi abbiamo i fiori con i vasi qui ci sono degli espositori con altri vasi altra frutta verdura anche questi libri sono in vendita poi abbiamo qui la stessa cosa quindi fiori vasi altra frutta e verdura qui dietro invece ho piantato adesso non mi ricordo cosa margherite vite c'è spuglio di more crisantebo mirtilli e spinaci li ho piantati qui e sono tutti in vendita adesso non so sinceramente se i clienti acquisteranno il vaso con i semi o acquistano sugli semi non lo so vedremo invece nelle verande ho messo semplicemente dei vasi d'arredo con delle piante decorative anche da questa parte ok questo quindi è il negozio all'inizio quello che vorrei fare io è quello di trasformare questo piccolo negozio in un garden non so se magari nella vostra città ci sono i garden praticamente sono quei negozi immensi in cui oltre a vendere i semi i fiori ad avere le serre con le piante da giardino da frutto le verdure eccetera hanno anche quei reparti con l'arredamento da giardino quindi ci sono i tavolini le sedie gli ombrelloni tutto da giardino poi gli utensili anche i libri da giardinaggio insomma quei garden ce ne sono di solito quasi in tutte le città e sono anche abbastanza grandi e molto belli secondo me quindi io vorrei trasformare il negozio di Alessia e Cod in uno di questi garden quindi in questo spazio qua dietro creeremo per esempio la zona dedicata all'arredamento da giardino quindi metteremo sedie tavolini ombrelloni poi una zona con magari una libreria dove vendiamo i libri da giardinaggio poi non so un'altra zona a volte nei garden ci sono quei reparti con le candele profumate cose di questo genere insomma vorrei trasformarlo in un vero e proprio garden però al momento iniziamo con qualcosa di piccolo quindi ci limitiamo a vendere soltanto qualche fiore e frutta e verdura allora dai dobbiamo assolutamente guadagnare abbiamo 12 simole venite qua tutti e due forza innanzitutto mettetevi la divisa dal lavoro aspettate che non mi ricordo eccolo qua quotidiani due e quotidiani due ah scusatemi non vi ho detto che ho cambiato la pettinatura ad Alessia comunque questi qua sono due grembiuli che hanno aggiunto con lo stuff pack cucina perfetta quindi sarebbero più dei grembiuli da cucina però secondo me sono andate anche al giardinaggio e poi vi dicevo ho cambiato la pettinatura di Alessia perché mi piaceva tantissimo questa qui l'hanno aggiunta con un giorno alla spa e secondo me è bellissima quindi le ho cambiato i capelli d'accordo che dite apriamo sapete cosa io metterei per questa volta come prezzo caro perché sinceramente non so a quanto potremmo vendere la frutta e la verdura quindi magari mettiamo caro perfetto e apriamo il negozio eccoci qua siamo aperti speriamo di vendere già abbastanza non arriva nessuno però ok ecco gli stanno arrivando i primi clienti iniziamo subito a chiacchierare con loro uh no è Michele è Michele mi sembra Michele eh sì che è Michele ma no ma come vabbè dai allora aspettate facciamo così vedo che la signorina qui sta puntando i vasi all'esterno quindi salutiamo il cliente no vuole questi forse no va fuori vabbè sceglierà poi e vabbè visto che c'è Michele chiacchieriamo con lui vediamo se vuole qualcosa non riesce aspetta vai qui allora chiedi la fascia di prezzo con lei non posso ah perché se ne sta andando vabbè questa qui non aveva voglia di comprare nulla uh voi mi sembrate interessate ai vasi quindi allora chiedi la fascia di prezzo offre informazioni entusiasmati per il negozio negozio no offre informazioni vabbè l'avevo già fatto consiglia delle alternative discuti le preferenze di acquisto e poi veniamo qua e facciamo la stessa cosa con questa cliente perfetto rispondi alle domande vediamo di vendere il più possibile negozio no non posso fare nulla per il momento però Michele non sta aumentando ah no eccolo eccolo benissimo non avevo visto questa sapete che questa tipa qua mi sembra più interessata lascia stare vieni da questa qui mi sembra più propensa ad acquistare qualcosa ma viene ah ok è andata lei allora vediamo altre scelte negozio rispondi alle domande altre scelte ci sarebbe anche Sara queste mi sembrano interessate ai libri e forse alle fragole entusiasmati promuovi i prodotti offri informazioni però non mi sembra che cresca in fretta la barra blu di Michele ah no invece no cresce cresce ok non me ne ero accorta anche questa signora sta crescendo parecchio cerchiamo di seguirla il più possibile allora oh bene Michele vuole comprare serve il cliente vediamo entusiasmati sempre per il negozio consiglia delle alternative oh ok si sono accorti che Code è un alieno speriamo non sia un problema offri informazioni dai che anche questa tipa qua secondo me adesso comprerà qualcosa oh grazie 908 veramente abbiamo guadagnato un sacco e abbiamo venduto una pianta ah sapete perché perché abbiamo messo i prezzi alti per quello abbiamo messo i prezzi alti ok grazie Michele questa signorina qua non vuole più comprare che c'è perché salutano non si sa discuti vediamo qua magari proviamo con qualcuno proviamo con Sara dai sì infatti Sara è già a metà e lei vuole comprare dove è andata eccola qui cosa vuole comprare penso voglia comprare forse questo vaso qui comunque chiacchieriamo con Sara sapete che è un po' piccolo questo negozio si stanno tutti ammassando qui eh lo so non so che è piccolino ma tipo servire il cliente ok benissimo adesso la sta servendo chiacchieriamo ancora con Sara consigli alternative discutire le preferenze di acquisto ah accidenti c'è lui che vuole comprare no allora serviamo lui serviamo lui assolutamente oh benissimo la signora ha comprato i libri ah bene grazie vuol dire che anche i libri sono una buona idea uh anche Sara vuole acquistare dov'è 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 pini qua e servila vediamo se qualcun altro vuole acquistare no nel momento non mi sembra comunque lui ha invece acquistato il gli attrezzi da giardino va bene e Sara penso voglio acquistare o questo o questo vediamo qualcun altro che vuole comprare non so proviamo con questo cliente no questa mi sembra già più interessata e Sara si ha comprato questo qui allora proviamo con lei saluto al cliente e saluto al cliente allora rispondi alle domande ah queste qua bisogna innaffiarle però non mi sono accorta dobbiamo ricordarci di innaffiarle ogni tanto oh mattia è venuto anche lui vediamo di convincere qualcun altro da comprare ricordiamoci che alle 2 e alle 3 loro vanno al lavoro quindi dobbiamo chiudere il negozio prima rispondi sempre alle domande ah vediamo discusi le preferenze entusiasmati per il negozio offri informazioni ok dai anche lui vuole comprare lui vuole comprare vai 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 fermi il cliente e dai che anche questa qui fra poco compra ah ecco lui fra un'ora va al lavoro accidenti offri informazioni compra benissimo lui ha comprato un innaffiatoio con fiori e invece lei dove va ah si compra l'altro innaffiatoio con fiori va bene quindi vai qua e servi la cliente ah fra mezz'ora lui va al lavoro vediamo proviamo lo stesso a chiacchierare tipo con lei no ho sbagliato interazione ah vediamo dove sono quei eccole qua rispondi alle domande no mi sa che cod non ce la fa a vendere qualcos'altro ma lei sta andando vai a servire alla cliente ah perfetto 56 no basta cod deve andare al lavoro meglio farlo andare al lavoro e anche alessia va a lavorare fra un'ora e vabbè niente allora direi che possiamo chiudere il negozio magari aspettiamo un attimo anche lui vuole comprare vediamo se ce la facciamo a servire questi ultimi due clienti ce la facciamo sì 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 ce la facciamo allora serviamo lui e poi chiudiamo ah forse deve andare eh sì deve già andare al lavoro lei lo so che siamo in ritardo però ha comprato uh no lei vuole comprare no vabbè mi sa che oggi dove vai dove vai dove vai no oggi devi saltare il lavoro assolutamente c'è un sacco di gente che vuole comprare eh sì mi sa allora che possiamo anche licenziarci dal lavoro di cuoca perché vedo che sta avendo parecchio successo cioè i clienti vogliono comprare anche senza il mio intervento senza star lì a parlare con loro quindi forse è stata una buona idea quella del negozio sul giardinaggio uh comincia ad avere fame lei vabbè che dite chiudiamo vediamo cosa compra lei un altro vaso dai chiudiamo direi che possiamo chiudere non mi sembra ci sia nessun altro che vuole acquistare e allora chiudiamo il negozio magari riesco anche a farla andare al lavoro nessuno ha comprato la frutta e la verdura esposta comunque abbiamo venduto otto articoli per 3487 simoleon tantissimo sì ok abbiamo aumentato i prezzi forse potremmo anche aumentarli di più no forse di più no comunque per il momento manteniamo questa fascia di prezzo perché è ottima grazie mille arrivederci se ne vanno sì dai che riesci anche ad andare al lavoro forse non so che hai fame eh lo so che ci stanno chiamando dal lavoro ma ce la facciamo ce la facciamo vediamo se ce la fa sì sì ce l'ha fatta ok ci hanno fatto tornare a casa sì sono entrambi al lavoro va bene eccola è già tornata no no è tornato lui è tornato lui a sonno vai a dormire vediamo lui per la promozione dobbiamo allenarci siamo a metà siamo a buon punto secondo me una promozione arriva presto però dobbiamo allenarci anche come incarico del giorno posso tipo trasferirmi simoleon vediamo un due tre sì adesso abbiamo 3580 simoleon sì sapete che stavo pensando ad una cosa intanto è tornata pure lei vai pure a dormire no fatti una doccia veloce prima e poi puoi andare a dormire stavo pensando ad una cosa adesso abbiamo le carriere di Alessio e Coda che si stanno avviando abbastanza bene lui ha già ricevuto due promozioni e la prossima ormai è imminente il negozio sta andando benissimo solo il primo giorno abbiamo guadagnato 3000 simole un sacco di gente è venuta e un sacco di gente ha comprato abbiamo venduto ben 8 articoli quindi visto che stiamo iniziando a guadagnare così bene che ne dite di allargare la famiglia avevamo detto che con Alessia Cod Riccardo e Zea gli avremmo fatto avere dei figli appena le loro carriere fossero decollate e avessero comunque iniziato a guadagnare un po' i soldi con Alessia e Cod direi che ci siamo stiamo guadagnando parecchio secondo me è un buon momento per avere dei figli e allargare la famiglia quindi che ne dite di provare già adesso? forse è meglio fargli un attimo riposare mi sa che sono troppo stanchi facciamogli un attimo riposare e poi proviamo vediamo se ce la facciamo di già tanto i soldi per arredare la stanza del futuro bambino ce li abbiamo stiamo guadagnando benissimo quindi non vedo perché non iniziare ad avere un figlio almeno con loro e al momento non li faccio sposare mi avete chiesto di farli sposare e poi avere dei figli ma secondo me non c'è nulla di male ad avere prima dei figli e poi sposarsi ci sono tante famiglie che si sposano e hanno come pagetti i propri figli quindi secondo me possiamo tranquillamente fargli avere dei figli e poi con calma quando avremo tempo farli anche sposare comunque aspettiamo che si riposino un momento allora lui mi sembra già a posto dai anche lei è a posto allora svegliatemi e proviamo ad avere un figlio si lui sta dando un po' di matto però è un po' di matto ed ecco qua magari proviamo subito a fare un test di gravidanza per vedere se Alessio è rimasta incinta lo so che avete fame aspetta magari prima diciamo a cosa di preparare la colazione serve la colazione uova strapazzate e intanto noi andiamo a fare il test vediamo se ce l'abbiamo fatta si 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 mangia per due congratulazioni Alessia è in dolce attesa benissimo ce l'abbiamo fatta oh le sta dando la notizia gli sta dando la bella notizia bene mi sembra contentissimo anche lui comunque adesso sarei veramente molto 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 curiosa di vedere cosa succede visto che Cod è un alieno vedremo poi cosa nascerà ok ha preparato la colazione mangiamo chiacchierate fra di voi magari facciamo qualche interazione romantica un bacio flirta aspettate a che ora è che vanno a lavorare ah lei va alle 15 lui alle 14 ok ah sapete cosa magari con lui adesso andiamo un attimo in palestra ad allenarci così completiamo questo incarico e magari raggiungiamo il livello 2 di forma fisica lei avrebbe sonno no facciamola andare a dormire no non mandiamola in negozio avete mangiato ah e poi mi sono dimenticata un'altra cosa nel negozio dovremo anche creare il reparto dedicato a come si chiamano ai rimedi erboristici che Alessia preparerà ah è un'altra cosa che mi stavo dimenticando è diventato maturo il frutto del drago eccolo qui è diventato maturo quindi aspetta un attimo prima di andare a dormire raccogliamolo e piantiamolo e facciamo l'innesto con la bacca di leone aspettate vediamo una bacca di leone ne abbiamo una penso di sì eccola qua bacca di leone e anche questa sì e allora aspettate che la prendo andrebbe anche un attimo curata la mettiamo qui ok lei ha finito di mangiare allora tu ripulisci riponi ah sta ripulendo lei va bene ah sì vabbè ma non quest'abito però questo è quello del negozio benissimo e andiamo ah no aspettate non dovevo raccogliere dovevo prendere il germoglio aspettate che ho sbagliato prendi il germoglio adesso però che germoglio abbiamo innesta aspetta come faccio ah no sapete cosa accidenti no ho sbagliato ah no perché comunque questa è una pianta di fragole non cioè la vede come pianta di fragole quindi se io prendo il germoglio mi prende il germoglio della pianta di fragole dobbiamo prima piantare il frutto del drago in modo da avere una pianta del frutto del drago e dopo si può fare l'innesto giusto è vero quindi no ferma prendiamo allora il frutto del drago eccolo qui un frutto esotico dal colore vivace si che poi fra l'altro il frutto del drago esiste davvero non è un nome così inventato nel gioco esiste veramente il frutto del drago è tipo una specie di papaya o mango comunque piantiamolo no che fa se lo mangia ho sbagliato no per fortuna ne abbiamo un altro era buono almeno per aver mangiato un prodotto della terra si dai era buono aspettate che pianta l'altro pianta non mangia adesso quindi dobbiamo aspettare che cresca la pianta del frutto del drago e dopo potremo fare l'innesto va bene comunque lei possiamo farla andare a dormire e lui invece sta bene d'accordo allora io direi che magari possiamo fermarci qua con questo episodio adesso faccio andare cod in palestra così miglioriamo l'abilità di atletica fino al livello 3 e completo anche l'incarico del giorno e poi con i soldi che finalmente stiamo guadagnando arredo un attimo la camera del bambino in modo che quanto nascerà sarà già tutto pronto quindi ci fermiamo qua lasciate un piaccio commento se vi è piaciuto iscrivete il mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti e noi ci rivediamo e noi ci rivediamo Grazie.